Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi parliamo di un gioco molto divertente, un gioco che ci è arrivato da qualche giorno. Si parla di Age of Towers, un gioco della Devil Pig Games portato in Italia dalla 3M Games che ancora una volta ragazzi grazie veramente di cuore per avercene fornito una copia per la recensione e grazie ancora una volta per aver portato questo titolo in Italia tra i tanti che state portando. Come avrete capito dal nome si parla di un gioco, un tower defense, quindi secondo me questo è un gioco molto divertente e veloce, poi vi faremo vedere successivamente l'unboxing e le regole principali del gioco, un'infarinatura principale per quanto è regolamente piccolino e ve lo leggete davvero in un quarto d'ora. Si parla di un tower defense in cui i giocatori saranno chiamati a fare i propri interessi come minatori in un mondo fantasy che vede orche e goblin a combattere contro i giocatori che terranno 4 città e dovranno difendere dall'assarto dei mostri. È un titolo veloce, è un titolo immediato e secondo me è un titolo che, ben o male, anche per il costo contenuto che ha, non deve mancare in una libreria. Passiamo all'unboxing. Iniziamo l'unboxing. Tra l'altro scatola decisamente contenuta come dimensioni, quindi anche per portarla a giro la mettete in uno zainetto o la portate anche a mano, ma comunque è semplice come scatola, piccolina e quadrata e anche il layout e il disegno che c'è sopra è molto 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 carino. Il regolamento del gioco che è stato fatto ricorda molto da vicino secondo me quello di Most & Slaughter perché è stato fatto più che altro bello largo, a striscia come fumetti di un tempo e il regolamento del gioco tra l'altro che spiega veramente bene, ecco forse a differenza di altri giochi questo l'ho visto più pulito come regolamento e più chiaro che vi fa vedere anche tutti quanti gli esempi e tutte le cose, quindi secondo me anche di facile lettura. I tile di gioco che ovviamente vanno separati da qui, vanno staccati perché poi la strada non sarà mai la stessa volta per volta andrà composta, comunque le sezioni della mappa sono quattro più una sezione centrale e ogni sezione della mappa ha il suo eroe dedicato. Come vedete in questo caso ha un cavaliere, in una regione comunque abbastanza direi boschiva per poi andare invece in una regione molto più desertica con un altro tipo di personaggio. Un'altra scheda di pezzi della mappa più vari token mazzo delle carte ricerca e avventura mazzo della modalità solitario token dei mostri con i goblini di base gli orchi ragni che in una miniera non possono mai mancare più il boss quello cattivo, brutto e potente da sconfiggere questi l'hanno rubati da Pugosder no, sono sempre gli stessi gemmine quindi il vostro tesoro da prendere e da minare all'interno delle miniere tabella per i mostri come vedete col boss al centro segnalini per i quattro giocatori all'interno colorati torri colorate da costruire e dirigere per difendere il vostro dominio perché sennò che tower defense sarebbe e per concludere bustine dentro cui mettere le vostre carte e qui veramente benedico gli sviluppatori del gioco perché queste sembrano cavolatine ma conviene sempre comprarle perché vi allungano la vita delle carte ragazzi ancora una volta accorgo l'occasione per ringraziare la Devil Pig Games e la 3M Games italiana che è l'editore che lo ha portato in Italia molto divertente il gioco ma vediamo un po' le regole ora allora ragazzi questo è il tavolo di Age of Towers per una partita a due giocatori in una partita a due giocatori le torri verranno divise equamente fra i due partecipanti quindi 5 torri per ogni colore ai due partecipanti e questa è la composizione del tavolo il gioco è molto semplice quindi veramente vi basterà vedere questo video per capire bene come giocare poi il regolamento è piccolino di 15 pagine è un tower defense quindi è bene che sia veloce e intuitivo prima di iniziare una partita come in tutti i board game del mondo c'è da decidere chi sarà il giocatore con l'iniziativa che poi iniziativa che passerà da un giocatore all'altro alla fine del turno lo svolgimento del gioco ovvero il turno di gioco si divide sempre in 4 fasi che comprendono il crepuscolo la notte l'alba e il giorno e ciascuna di queste fasi deve essere giocate in successione da ogni giocatore a partire dal giocatore con l'iniziativa per arrivare fino alla fine del turno e poi iniziare con un nuovo evento all'inizio della fase del crepuscolo su questo indicatore andrete a mettere il simbolino della torre sul primo sulla prima fase del giorno ovvero quella del crepuscolo la fase del crepuscolo è la zona di partenza è quella più facile perché dice dovete pescare la prima carta evento dal mazzo evento coperto rivelarla metterla in gioco che questa è una carta evento che andrà giocata appunto entrerà in vigore per tutti i giocatori presenti sul campo e non solo dal giocatore che è la girata in questo caso vabbè è uscito un niente non succederà nulla quando girate una carta evento ricordatevi sempre che la carta evento che girate entrerà in vigore dal turno successivo e quindi non dal turno corrente la seconda parte del turno che è il turno della notte e nel turno della notte i mostri usciranno dalla miniera e cercheranno di avvicinarsi alla città la regola dice che nel turno di notte dal secondo turno successivo al gioco perché nel primo non succederà niente di che dal secondo turno i mostri inizieranno a uscire dalla miniera per sciamare verso la città dal cumulo dei mostri del giocatore usciranno due mostri sempre quindi ne selezionerete uno e uno due ne usciranno sempre due a meno che il uno dei possibili due mostri che sta per uscire non sia il boss ovvero ve lo faremo vedere più avanti quello nero con la base un po' più larga nel caso che uno dei due mostri che stanno per uscire dalla miniera fosse il boss uscirà soltanto il primo perché quando esce il boss esce sempre da sole non accompagnato da altri mostri i mostri hanno sempre un livello in questo caso i tre mostri del gioco sono l'orco il goblin e il ragno l'orco è di livello 2 quindi vuol dire che si muoverà di due di due location in direzione con la strada più breve per arrivare alla città ricordatevi le creature si muovono sempre di un tot di zone pari al loro livello quindi l'orco uscendo partendo da qui si muoverà di due e farà uno due seguendo la strada ovviamente più breve per arrivare verso la città del giocatore mentre il secondo mostro è un goblin si muove di uno perché è di livello 1 quindi si muove di uno però ha l'abilità orda vuol dire che si muove di un tot di caselle quanti sono i goblin al momento in gioco quindi lui essendo da solo si muove di uno ma se ci fossero stati due goblin o tre goblin si sarebbe mosso di due o tre caselle quindi il goblin esce dalla miniera e si ferma qui questa è una fase che dovete ripetere durante la notte per tutti i giocatori che sono in campo quindi questo giocatore ha dichiarato ha mosso i suoi mostri toccherà il secondo giocatore muovere i mostri e così via e qui finisce la fase della notte arriva la terza fase che dopo la notte vi ho detto è l'alba e nella fase dell'alba i giocatori potranno usare le loro torri per sparare contro i mostri ora abbiamo iniziato appena il turno il primo turno di gioco e ovviamente nessuno avrà torri in campo perché andranno costruite nel tempo però vi faccio vedere come funzionerebbe nel caso ci fossero delle torri mettiamo caso che in questa zona il giocatore abbia costruito tanto ve lo faremo vedere nel prossimo turno una torre rossa la torre rossa come regole ha quella che può tutte quante le torri possono sparare nelle quattro caselle loro adecenti tanto vedete sempre sono messe al centro di quattro caselle quindi questa torre potrà sparare qui 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 e qui con l'unica regola che una torre può sparare soltanto a creature dello stesso colore quindi la torre rossa può sparare al goblin ma non all'orco e creature nere le creature nere del gioco almeno che non ci siano poi espansioni in futuro al momento l'unica creatura nera è soltanto quella del boss quindi tutte le torri possono sparare a creature del loro stesso colore e al boss quindi ora avete visto cosa fa una torre rossa ma se al posto di una torre rossa ci fosse stata una torre blu alla rovescia avrebbe potuto sparare all'orco ma non al goblin ci sono creature che hanno delle abilità particolari ricordatevi che ogni creatura presente nel gioco ha due ferite quindi tutte quante a parte il boss che ovviamente ne ha di più ma lo vedrete dopo ogni creatura in gioco una volta che viene ferita mettiamo caso in questo turno della notte ah ogni torre può sparare una sola volta per turno un solo colpo quindi anche se ci fossero più creature blu nella stessa casella ne dovrebbe bersagliare una soltanto comunque la mia creatura la mia torre attacca la creatura gli fa un danno quindi lo giro dalla parte ferito ricordatevi sempre di girarla per ricordarci appunto che la creatura è stata ferita però questa creatura come abilità l'orco come abilità ha distruzione quindi vuol dire che quando viene ferita la torre che ha ferito l'orco viene distrutta a meno che non ci sia una regola particolare ma ve la farò vedere nel prossimo turno cosa succederà arrivando alla fase del giorno le azioni che potranno compiere i giocatori saranno le seguenti sempre seguendo l'ordine di iniziativa quindi dal primo giocatore all'ultimo costruire una torre costruendo una torre il giocatore prenderà due dei suoi sei cristalli iniziali quindi questi li metterà da parte e questi due saranno spesi fate un mucchetto da qualche parte vabbè intanto le metto qui per farvelo vedere potrà spendere due cristalli per costruire una torre quindi lui potrebbe dire visto che il blu sta avanzando un po' troppo e non voglio che mi arrivi alla base io prendo una torre e la metto qui quindi ho costruito una torre e questa è la fase di costruzione della torre il limite per queste azioni nel giorno è sempre di due quindi ciascuno dei giocatori potrà fare due azioni due e non di più quindi nel caso abbia costruito la torre ha già speso la sua prima azione per costruire una torre spendendo i cristalli oppure potrebbe scegliere di allungare il suo percorso perché vedete il percorso alla fin fine va allungato la città va spostata indietro il più possibile perché se no le mostre arriveranno facilmente quindi se decide di rifare un'azione del genere pescherà la sua prima carta percorso e a questo punto con la sua nuova carta percorso dovrà andarla ad inserire tra la tessera principale della miniera e la città quindi sposterà la città e deciderà lui stesso il nuovo percorso quale sarà quindi metterà questo così e la città di conseguenza collegata qui accanto con l'unica regola che non si possono mai creare percorsi autoconclusivi perché uno potrebbe mettere un'altra tessera di qua che chiuda di qua e i mostri non potrebbero più arrivare alla città questo non si può fare comunque un collegamento alla città ci deve sempre essere avendo messo una tessera in più allungato il percorso dei mostri per arrivare alla sua città e questa è un'altra delle azioni che potrebbe fare un'altra possibile azione sarà quella di andare al mercato che vedete ve lo spiega il regolamento all'inizio vi dice di mettere tutte le carte di cerca impilate qua giù in fondo e in cima pescarne sempre tre perché il mercato dovrà sempre avere tre carte disponibili quindi come un'altra delle azioni possibili il giocatore andrà al mercato e sceglierà una delle tre carte che sono in campo ne potrà scegliere una soltanto e nel caso una delle carte che vada a scegliere avesse un costo in cristalli dovrà pagare quei cristalli ovviamente per comprarla se no potrà prendere una carta delle tre che preferisce io in questo caso decido di prendere la carta costruttore una volta che la carta è stata presa automaticamente queste si sposteranno a destra e dovrà essere scelta una terza carta perché ricordo il mercato deve sempre avere tre carte quarta possibile azione anche ultima del giorno è quella invece di prendere una di quelle carte lassù quindi che già sapete quali sono quindi non vi potete sbagliare è quella di pescare spendendo un'azione pescherete due carte coperte dal mazzo ve le porterete via e quelle ve le dovete tenere insomma quello che avete pescato è quello che sono questa carta che ho appena pescato costruttore ci dice che posso spendere due cristalli per fare l'upgrade migliorare una delle mie torri oppure posso scartare questa carta per guadagnare invece due nuove monetine due nuove cristalli se io decido di scartarla la carta andrà scartata andrà nella pila degli scarti delle carte ricerca e prenderò due nuovi cristalli da mettere nella mia parte di tavolo oppure potrei scegliere di fare l'upgrade a una torre però questa volta spendendone due perché lo vedete pagate due cristalli per migliorare una delle vostre torri mettiamo caso che voglia migliorare una torre per fare l'upgrade a una torre prendete la torre ci mettete sopra questa parte qui tanto vanno in castro e la rimettete sul tavolo da questo momento in poi la torre è upgradata a livello 2 e inizierà ad avere delle abilità particolari nel caso dell'upgrade di una torre gialla la torre gialla acquista l'abilità di fermare una creatura quindi bloccargli completamente il movimento una creatura che entra nella sua area quindi vi ricordo sempre i 4 tile adiacenti le 4 zone adiacenti quindi sempre del suo colore quindi non potrà mai fermare una creatura azzurra ma dovrà sempre andare a colpire una creatura del suo colore o nero quindi mettiamo caso che entri un ragno quindi una creatura gialla sponi da qui e questa creatura gialla si muove di 3 il ragno è la creatura più veloce del gioco il ragno farà 1 2 e il giocatore con la torre gialla nella sua fase appunto quando potrà attaccare potrà dire ok io uso la mia mossa invece che per attaccarti e farti danno uso la mia mossa per paralizzare il ragno qui e non farlo andare avanti non farlo procedere quindi non attaccherò nessuno ma avrò bloccato questo ragno nel caso dell'upgrade di una torre rossa quindi torre di attacco la torre rossa potrà fare non un danno ma ben due danni alla stessa creatura quindi non si andrà più ok ti ho attaccato ti ho fatto un danno avessi un ferito ma ogni creatura attaccata sarà direttamente rimossa dal gioco ricordo che nel caso vengano fatti due danni a creature con l'abilità che da ferito ti distruggono la torre questa cosa non sarà più attivata perché la creatura può attivare la sua abilità speciale solo quando viene ferita nel caso invece dell'upgrade di una torre azzurra la torre azzurra serve una torre difensiva serve per prevenire la distruzione di se stessa o di un'altra torre adiacente quindi cosa vuol dire che se per qualsiasi tipo di abilità speciale tipo quella dell'orco la mia torre rossa o la mia torre gialla stessero per essere distrutte la torre blu dirà ok gioco la mia abilità per evitare che tu venga distrutta oppure se la torre blu dovesse essere quella che sta per essere distrutta potrà salvarsi usando questa abilità quindi il senso principale del gioco è sempre quello di costruire le vostre torri fare upgrade dalle vostre torri ma soprattutto allungare il percorso il più possibile per evitare che i mostri arrivino in base perché se il mostro dovesse continuare la sua strada indisturbato ed arrivare quindi scegliendo anche bene i colori ed arrivare alla città una volta che il mostro sarà arrivato alla città vi farà un tot di danni ok vi farà un tot di danni pari al suo livello quindi nel caso lui un orco va arrivare in città a livello 2 i punti ferita della vostra città delle vostre truppe del vostro esercito scaleranno e quando ovviamente arriveranno a 0 quel giocatore sarà stato sconfitto e la partita sarà finita colgo l'occasione per ricordarvi che all'inizio della partita avete sempre due segnalini grandi vostri di azione questi segnalini dovete metterli sulle azioni che avete svolto durante il giorno quindi facciamo conto io ho costruito una torre ci metto il segnalino sopra e poi ho deciso di andare al mercato per prendere una carta quindi metto così che gli altri giocatori sappiano che abbiamo compiuto le nostre azioni e come le abbiamo appunto qual è stata la nostra decisione e come le abbiamo svolte la partita finisce quando o la città arriva a 0 quindi un giocatore viene eliminato e si inizia da capo perché la partita è finita e quindi si andrà a fare la somma di punti finali o quando alla vita del boss ovviamente anche il boss ha una decina di punti ferita 10 punti ferita quando alla vita del boss scalerà ogni volta che sarà ferito dalle torri e arriverà a 0 una volta che il boss sarà sconfitto la partita sarà finita come entra in campo il boss? una volta che tutta la pila di mostri sarà stata sconfitta o saranno arrivati in città perché una volta che un mostro arriva a un città e vi distrugge la città vi fa fuori l'esercito sarà sempre scartato a questo punto entrerà in campo il boss che il boss vi ricordo anche lui essere un livello 2 e quindi si muoverà di due caselle il boss è 1 per giocatori 1 soltanto quindi nel mazzo non ne potrete avere più di 1 e una volta che il boss subirà delle ferite dalle vostre torri dovrete scalare i punti ferita del boss da 1 fino in fondo e una volta che sarà sconfitto vi ripagherà in cristalli ma soprattutto la partita sarà finita perché la partita si finisce con la morte del boss o con la fine dei punti ferita di una città è un gioco divertente è un gioco di gruppo è un gioco anche veloce perché in 40 minuti massimo un'ora finisci la partita così te ne fai magari una seconda con gli amici se è piaciuto è un gioco cooperativo ma fino a un certo punto perché poi dal regolamento verrete che ci sono anche delle carte particolari delle carte che potrete pescare nel mazzo ricerca che vi fanno spostare un mostro dal vostro percorso al percorso di un compagno perché la partita come vi ho detto finisce quando principalmente a parte ammazzare il boss ma uno dei giocatori arriva a zero vita quindi cercate di non essere voi quel giocatore che arriverà a zero vita perché se no la partita sarà finita e voi avete perso e si farà la conta dei punti se gli devo dare un voto gli do un 7 perché è una bella idea ma soprattutto io non sono fan di tower defense però devo dire che ricordandomi diversi tower defense che ho giocato su pc ce l'ho rivisto bene cioè è stato è una trasposizione molto bellina di un tower defense portato in gioco da tavolo e ci voleva è fatta bene è come un po' room and bones è la trasposizione di un MOBA portato in gioco da tavolo e riesce a farlo molto bene sicché il 7 per quanto magari non sia il mio genere se lo merita assolutamente tutto ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i nostri link quindi il nostro facebook il nostro instagram il nostro sito per seguire tutto quanto il nostro progetto che abbiamo chiamato maledetti dadi in cui parliamo di kickstarter board game war game ed altre cose io ringrazio ancora una volta porto ovviamente la devil pig ma soprattutto la 3m games che me ne hanno mandato una copia e al solito grazie ad averlo portato in italia perché tutti i giochi che ci portate in italia è grazie a voi se ci arrivano tradotti e abbiamo il piacere di giocarli quindi grazie ragazzi continuate così sono onorato della collaborazione che stiamo facendo e niente ragazzi assolutamente in descrizione trovate il link per comprarlo per me è un titolo divertente vi devono piacere ovviamente tower defense però anche un gioco veloce da passare una serata con gli amici in uno di quei giochi che messo in libreria ogni tanto sicuramente andrete a pescarlo per farci una partita è veloce immediato e divertente ed è quello che conta ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti